Quando i carabinieri del NAS di Treviso hanno bussato alla porta dell'asilo privato a Castagnoli di Paese, all'interno c'erano 18 bambini tra i 2 e i 6 anni ed il personale. Una giornata come le altre, tutto sembrava normale. Peccato che la struttura fosse completamente abusiva. Ad accertarlo i militari dell'arma, immediatamente la scuola dell'infanzia, attiva da due anni nel territorio, è stata posta sotto sequestro. I piccoli sono stati riaffidati ai genitori. Il controllo del NAS era scattato per accertare la regolarità delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali delle mense scolastiche, ma alla richiesta di presentare la documentazione, i responsabili di un'associazione culturale di Altivole non hanno fornito alcuna certificazione. Completamente assente la prescritta registrazione sanitaria, ma i militari dell'arma hanno scoperto qualcosa di ancora più grave. Mancava infatti l'autorizzazione all'esercizio di questo servizio educativo-sociale rilasciata dalla regione. Insomma, non avrebbero potuto esercitare in quella struttura. Una volta all'interno i cramiri si sono trovati di fronte 18 piccoli per i quali è stato richiesto l'immediato prelevamento da parte delle rispettive famiglie. La struttura sequestrata del valore di 300 mila euro è stata posta a disposizione del comune di paese. Ai responsabili verranno contestate violazioni amministrative per un valore di 5 mila euro. La notizia ha fatto il giro del paese lasciando famiglie residenti perplessi e preoccupati. Una brutta notizia, davvero una brutta notizia, l'ho saputa anch'io poco tempo fa, anche perché sono coinvolti quasi 18 bambini minori. Quindi al di là dell'attività illecita in una casa c'è anche l'organizzazione di queste 18 famiglie che si sono affidate a questa associazione. Comunque va detto che questo è un esercizio privato, voi come comune non ne sapevate nulla? Assolutamente, noi abbiamo il nostro nido comunale e come tutte le strutture, anche quelle private, ci si accredita direttamente in regione. Cosa fare adesso per questi bambini e questa famiglia? Vedremo, sicuramente chiameranno anche noi. Purtroppo a paese abbiamo una lista d'attesa perché ci sono parecchie nascite, è un problema, da mamma sarà un problema perché dall'oggi al domani non riesci a trovare strutture disponibili, c'è comunque una lista, ripeto, d'attesa, ci sono tempi di inserimento, quindi la vedo veramente una problematica pesante per queste famiglie. Grazie.